Ciao dalla vostra amica, un bacio a tutte, appunto andiamo qui a saluti subitissimissimissimo prima di tutto perché se no mi dimentico Allora, devo salutare Ilaria Finotti, ciao Ilaria, poi Nicoletta04, ciao Nicoletta, Alessia Balzano, ciao Alessia Silvia Fierini, ciao Silvia, poi le ragazze fashion, ciao alle ragazze fashion Poi Emanuela Pia Castrofilippo, ciao Erika Gerbassi, ciao Erika, poi Sara Fornarelli, ciao Sara E Alessandra Patera, ciao Alessandra, salutate tutte, ok siamo posto Allora, poi aspetta che forse devo vedere una cosa qua, mi serve forse anche questo Come avete visto dal titolo, recensione dei prodotti che mi ha omaggiato gentilmente l'azienda P2 Cosmetics Che vi avevo fatto appunto il video che spacchettavo il pacchettino appunto che mi era arrivato Vi avevo fatto anche un tutorial di stesura di smalto normale perché comunque mi era arrivato il top coat Lo spray fatto asciugasmalto e questo colore bel rosso qua, vinaccia Insomma adesso volevo parlarvi un attimino di come mi sono poi trovata dopo aver messo la stesura Che vi avevo fatto vedere in video Diciamo che lo smalto l'ho tolto dopo, al quinto giorno ed era ancora intatto Non mi si era né speccato né niente Comunque cominciamo col parlare delle goccine Queste qua, che non sono a versione goccina ma è a versione spray Che costano 2,45 euro E mi sono trovata veramente, veramente bene O 2,45 euro o 49 Non mi ricordo un'altra volta, so che poi Vabbè, comunque ragazzi non passano i 3 euro Punto, stop E già da lì è buono Voi sapete che io ho sempre utilizzato quelli della essence E vi ho sempre detto che asciugano lo smalto Ma ungono tantissimo Perché giustamente c'è olio dentro e ungono E invece queste qua asciugano lo smalto E non ungono ragazzi Cioè veramente top, assolutamente Perché io mi sono trovata veramente, veramente bene L'ho usata due volte Anche non con il loro smalto ma con un altro smalto E comunque lo smalto lo asciugano E importante anche per me Che volevo appunto testare altre goccine Che comunque, sempre goccine Dico perché le chiamo così Però questo è in versione spray E che non ungono già È una buona cosa Comunque mi sono trovata bene Poi, col colore, idem Si stende molto bene Fluido al punto giusto E anche il colore, questo che mi hanno mandato Non potevano scegliere un colore di meglio Perché in questo periodo, il periodo di Natale è stato E poi, comunque, ero fissa con questi Vinaccia qua così, questi colori qua così Il top E anche questo, comunque Con la stesura sopra di questo top coat Che dice Con finitura specchio Sigilla lo smalto per unghie Tatatatata E cic 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 cioc E comunque Mi sono trovata bene anche con questo qua Perché ve l'ho detto L'ho tolto al quinto giorno Ce l'avevo da cinque giorni Il colore col suo top coat E mi sono trovata bene Non si è sbeccato niente Sapete che il lavoro che faccio io Cioè, uso sempre le mani nell'acqua E tutto A fare le pulizie Insomma Mi sono trovata abbastanza bene Per cui Recensione positiva Più che altro L'unica cosa che vi ho già detto Mi dispiace che qua nella mia zona di Bergamo Nelle OVS Non è ancora arrivato Perché saranno prodotti che verranno venduti Che sono venduti Nelle OVS Purtroppo qua da me non ci sono Ahimè Perché mi sarebbe piaciuto provare altri prodotti Speriamo che arrivi la svelta Così vado ad acquistare qualcosa Vado a sbirciare lo stand Perché io veramente adoro queste cose qua Poi ci sono comunque prodotti low cost A chi non li adora al giorno d'oggi Top Perciò ragazze Positivo, positivo, positivo Su tutti e tre questi prodotti Che mi hanno omaggiato E ci tenevo a farvi sapere appunto Una recensione Che se voi Non siete qua di Bergamo Siete più lontani Avete comunque questo marchio Che è arrivato Che io ve lo consiglio Almeno questi tre che ho provato Sono consigliati Almeno lo sapete Ci tenevo a dirlo Al prossimo Ciao della Nica Ciao Ciao Ciao